Allora, qui abbiamo cinque simboli ESP, il quadrato, la stella, la croce, le onde e il cerchio. Allora, fai una cosa, tu dovrai scegliere una di queste cinque e inserirne una dentro questa busta. Ok. Guarda, una busta completamente nesa, non trasparente, in modo che io non possa sapere quale è la carta che scelto. Mi volterò anche di spade. Vai! Ok. Oh, hai fatto molto bene, mi hai tolto le altre carte, così io non posso sapere qual è la carta che hai scelto. Allora, onde, quadrato, cerchio, croce e stella. Fai una cosa adesso, mentalmente cerca di trasmettermi qual è la carta che hai scelto. Ok. Secondo me, sì. Sì, tu hai scelto, esattamente, la stella. Sì. Come ho fatto?